Deathmatch, ma in basse M8 qua, proprio spacco il culo a tutti, mamma mia Ma giustro, ma giustro Io credo di essere diventato pazzo da quando è uscita questa beta Non è credi, è così Ah, M8, oh mio Dio, lagga pure questa Dai, speriamo bene No, connessione interrotta, l'ho già visto Il ping è normale 400, 45 Beh, te l'ho detto, 445 Raga, è tutto bloccato Olè, bye Vai, e vai Porco puttini Ma io tiro granate e mi sto sparito dalla mano Oh, ma stai scherzando, dai, te Cristo sì Wow Mega joint, te Cristo sì Mega, mega joint 3-0, incredibile 4-0 Ancora più assurdo 5-0, ancora più incredibile Wabbi Ecco E rilagga Aspetta, aspetta Dai, regà, che gioca, se gioca Si, si, vedrai, vedrai come si gioca bene ultime parole famose guarda mi sta già laggando l'anima ok attenzione dar il is on fire ecco molto ma i darling sono i granass e siamo tornati qui con cod e sono in compagnia di ron frax e zamp e oggi andiamo a fare un deathmatch molto easy speriamo di riuscirci perché tipo i server stanno laggando ovviamente essendo una beta è normale che sia così il gioco finale spero che non sia così non dovrebbe essere così ovviamente no no si spera di no proprio avrei di così per piacere che stai in feed si così così ok cominciamo così io inizierei così la partita però iniziamo così è così 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 come stai oggi così 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 venite qua così 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 guarda beh fraxerz frianchiamoli dal lato a colo stanno tutti in last e merdi flenca 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 tua mamma o li prendo quella bomba doppia che mi aspettava lui che è vergognoso è rimasto camperato allo spawn per aspettarmi ho fatto due assist 20 minuti raga no mortacci tua non mi muoiono sto giro ma che cazzo è guarda ci sono le partite dove vanno giù come niente fosse e quelle dove non ammazzi uno un matto ebbe ma come si sdraiava questo che vergogna ok capiamo dove è lo spawn però eh ma lo spawn non c'è da loro raga cioè è qua da loro grazie al cazzo è qua è dove siamo andati noi prima allora è da noi si è proprio da noi oh ma questo fa solo assist cazzo per ron grazie grazie david fa che mi vuoi bene no c'è uno che non va veramente giù occhio occhio ti lancio un colpo ti odio vai sono tutti lì buona guavo per voi guavo per voi via 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 sto guavvando guavvami la vita no questo come m'ha ucciso non capire qua eh sono tutti lì fermi preso al centro al giretto da dietro eccoli e ha fatto il giro di no raga gangster jaiden non muori non tacci tua questo ecco ronno m'ha ucciso quello che stava inseguendo te lol e venti minuti cosa inseguivo 4 3 ecco mi ha inviato una richiesta leggo legend of gamer ole strano fatto fuori un altro vai credibile quanti e non me ne è morto nessuno so male ce n'erano cinque tutti davanti a me guardali guardali sono tutti lì sono tutti lì sono tutti i figli di trova andate voi dal lato ok non è qua ma raga fermi quanti so fece non c'erano tipo 4 tanti qua nell'angolino occhio 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 via via scappa scappa mi fa rinascia addosso a quello occhio 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 dal lato mi spara dal centro mi spara dal centro cristo preso morto morto sono morto io che bello sono stati sul il mio bellissimo cosa vai che c'ho il tempest credibile non sta andando benissimo ho questa cosa c'è un cazzo da fare guarda quando no non è morto questo non è morto ha fatto la sua seconda chi dell'ha paghita non mi guatte io faccio il comeback vuole far vedere questa cosa ma perché ho preso la pistola perché si è incazzato quello prende il tempest ho preso la pistola che belle cose no cazzo stavo caricando il tempest anche al lato faccio un comeback della madonna mamma mia regà col tempest ne faccio fuori tre fermi tutti tripla tripla col tempest fatto veramente tripla col tempest no come ha fatto a prendermi questo un po game ecco è passato come partita però eh 45 a 30 ok tripla fermi stanno tutti qua a sinistra regà sinistra tutti qua mamma dov'è il cellulare lì dove sono i nemici qua tu parlite con lo spawn wow è il storm per lui avevo detto che facevo il cambiamento aia 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 vanno stannato e li ho contro stannati però occhio occhio al lato ottio basta sto ammazzati purtroppo jesus don't excise è il storm molto il storm inbound faccio multipla come la vita no solo dove ho preso uno sul muro in modo tipo ramberto mi sono rimasti otto colpi raga un'arma eccola una hvk ho perso ho finito i colpi con hiv e la mente mi faccio un po' stai che culo quello stanno girando spunti e fattile ma di qua non sono ancora nati aiuto le granate di merda va bene non ha fatti tre gol col coso si spawnano di la sopra 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 aia nooo oh andai visto figlio di troia non muore oh l'ho preso con una granata completamente random dai li stiamo fragando no regà ho fatto un fail assurdo qua aaa che violenza come sono rambo quando salto questo qua che parte uscito oddio anche lui dal muretto che palle e io correre sui muri però so fanno cazzo duro so fai peggio fail italiano cazzo duro era normale che quello mi prendesse perché farò due contemporaneamente sotto da che è finita finita li stiamo malamente distruggendo attenzione olè olè david 17 11 incredibile eh sì sono andato un po' meglio pezzo raro jron mi è superante però ho fatto una la prima partita senza lag siamo riusciti a farla da paura probabilmente prima avete visto una mezza tutto con lag però scialla va bene così il fan in moment se vi è piaciuto questo video lasciate un like io ringrazio come sempre zamp ron e frax per la compagnia bella ciao ciao è la